Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giancarlo Pinto e insieme al professore Ilenio Celoria abbiamo deciso di mettere a disposizione della Biblioteca Universitaria una serie di lezioni sulla fotografia. Questa idea nasce da una collaborazione tra l'Università di Genova al Polo della Fotografia e la Biblioteca Universitaria. Questa è la lezione della Camera Oscura. La fotografia nasce nella prima metà del 1800 e l'artista e chimico Louis Daguerre poté annunciare al mondo che i suoi prolungati esperimenti avevano finalmente avuto successo e avevano trovato modo di fissare l'immagine latente sulla pellicola di un supporto durante i suoi esperimenti in camera oscura. Questo è uno studio fatto appunto da Louis Daguerre e questo è uno dei primi daguerotipi. Cos'è un daguerotipo? Un daguerotipo si ottiene utilizzando una lastra di rame su cui è stato applicato elettronicamente un stato d'argento, quest'ultimo sensibilizzato alla luce con vapore di iodio. La lastra deve quindi essere esposta entro un'ora e per un periodo variabile tra i 10 e 15 minuti. Lo sviluppo avviene mediante vapore di mercurio a circa 60 gradi che rendono biancastre le zone precedentemente esposte alla luce. Il fissaggio conclusivo si ottiene con una soluzione di diosulfato di sodio. Qui vediamo delle immagini di daguerotipo. Passiamo ora al bianco e nero. La tecnica più semplice di stampa è proprio quella in bianco e nero. Infatti, la stampa a colori richiede un controllo molto preciso delle variabili, che sono la temperatura dei bagni di calibratura, della luce eccetera, e quindi è molto più complessa e dispendiosa. Qui vediamo una bellissima immagine di Hansel Adam. Vediamo la camera oscura. La camera oscura deve essere un locale dove è possibile il completo oscuramento. Deve avere una fonte d'acqua, deve avere dei ripiani di lavoro e deve avere dei fili per appendere le foto quando saranno da asciugare. La camera oscura in genere ha una luce sola inattinica, che è rossa, e serve appunto per manipolare la pellicola e la carta perché con questa luce non si sensibilizzano i materiali. La camera oscura è composta da due parti. Infatti, abbiamo la zona asciutta e la zona bagnata. Nella zona bagnata, che qui vediamo rappresentata a destra, ci sono dei lavandini di soluzioni chimiche, mentre invece quella asciutta, a sinistra, ci sono gli ingranditori, gli armadi che contengono le carte e tutto il necessario per l'operazione di stampa. La camera oscura è un locale che si può anche, volendo, fare in casa. Molti usavano il bagno di casa per sviluppare le loro fotografie. Quali sono gli elementi indispensabili per una camera oscura? Per un uso generale, un locale che si può totalmente scurire. Una luce di sicurezza, un termometro, un orologio, poi dei bicchieri e delle caraffe graduati, un grembiule dei guanti e poi delle asciugamani. Mentre invece per lo sviluppo serve un tank, delle soluzioni di sviluppo, arresto e fissaggio, delle spinze a spugna e delle pinzette per prendere in nativo. Per la stampa, invece, l'ingranditore, la carta sensibile, le tre vaschette, i contenitori delle soluzioni, le pinze e un'asciugatrice o smaltatrice. Vediamo adesso un confronto. I due processi sono il processo del negativo e il processo del positivo. Hanno gli stessi nomi, ma le fasi sono completamente diverse. Abbiamo già visto il processo del negativo con le sue fasi di impressione, sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio, asciugatura. Adesso invece vedremo il processo del positivo, che ha gli stessi nomi, impressione, sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio, asciugatura. Partiamo innanzitutto dall'ingranditore, che permette di proiettare il negativo su una superficie sensibile, la carta, per ridurlo oppure ingrandirlo. Il negativo è costituito da un piano di stampa e, ovviamente, da una colonna su cui scorre la testa con gli obiettivi, che comprende, al suo interno, una lampada che porta negativi e l'obiettivo stesso. Come si posiziona il negativo? Sistema il negativo nell'ingranditore con la faccia opaca rivolta verso il basso. Poi si spegne la luce, lasciando accisa soltanto la luce in attinica, e si accende l'ingranditore e si proietta l'immagine sul marginatore. A questo punto si controlla che l'immagine sia quella da noi desiderata, si mette, si spegne ovviamente la luce, e si posiziona la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. Qui non si fa altro che rifare una fotografia del negativo, e si imposta il timer sul tempo, si riaccende la lampada all'ingranditore per esporre la carta per il durato corrente. Ovviamente, per la messa a fuoco si usa il focometro. Fatto questa fase, si ha l'immagine che è cosiddetta latente. A questo punto bisogna farla apparire. E a questo punto si mette questa immagine nella prima vaschetta con lo sviluppo, e viene introdotta, e poi si passa nelle altre vaschette per arrivare fino al fissaggio. Vediamo ora lo sviluppo. Il bagno di sviluppo annerisce i cristalli di luce nuova colpiti dalla luce. L'immagine latente diventa quindi ora visibile. Le fasi sono, come abbiamo già detto, lo sviluppo. La carta viene messa nella prima bacinella e viene fatto sì che il liquido lambisca tutte le parti della carta, provocando delle piccole onde, in modo da far sì che tutta la carta venga impregnata dalle nostre soluzioni. Quando incominciamo a vedere i neri, e i neri sono di nostro gradimento, cioè riteniamo che siano quelli giusti, allora si prende la carta con delle pinzette e si mette nel bagno di arresto. Qui si lascia pochi minuti, in modo che fissi il procedimento di sviluppo, e non vada più avanti. Dopodiché si toglie anche da questa vaschetta e si mette nel fissaggio, e si lascia al tempo il gessuto per far sì che si fissino tutti gli elementi. A questo punto si passa al risciacquo, un risciacquo abbondante, con acqua scorrevole, in modo che si levino tutti gli elementi in più. Questo si lascia per un pochettino di tempo. Alla fine si passa all'asciugatura o essicamento. Dopo il risciacquo, le foto si devono far asciugare, e quindi si appendono con delle mollette. Una volta, gli studi erano fatti anche rivestiti di piastrelle, e le fotografie si, banco rabagnate, si mettevano sulle piastrelle. Quando praticamente cadevano per terra, vuol dire che il tempo era giusto, e quindi erano asciutte. Nella biblioteca abbiamo raccolto tutta una serie di elementi, e quindi abbiamo cercato di ricostruire la camera scura con i pezzi originali, raccolti attraverso le donazioni dei proprietari. Grazie, arrivederci. Grazie.